Allo Zaccheria la serata perfetta per personalità, coraggio, intensità e non solo. Anche progressi evidenti sotto il profilo del gioco e della proposta. Tutto in 90 minuti in uno stadio tradizionalmente ostico. Una gara preparata bene e giocata meglio. Colombo ha studiato l'avversario nei dettagli. Fa già temibile in attacco e sulla catena di sinistra Costa Dursi, ma vulnerabile quando perde palla perché senza equilibrio. È stata una delle chiavi del match. Il primo gol nella conferma. Craia scippa il pallone a Peterman. Cinque giocatori tagliati fuori. Capovolgimento e ricamo di Cancellotti per il vantaggio di Facundo Lescano. Milani che si inserisce con i tempi giusti e firma il raddoppio su assist dell'attaccante italo-argentino. È un'altra dimostrazione dell'indirizzo dato da Colombo. Solidità in primis, appena due gol subiti, nessuno su azione, ma anche input nell'espressione di gioco. Subito dopo l'espulsione di Di Pasquale, intervento fuori tempo, molto pericoloso su Cuppone, otto punti di sutura, ma fortunatamente tac negativa alla testa, il Pescara ha innestato il pilota automatico. Di fatto Accademia e altri due gol siglati da Craia e Vergani, subentrato a Lescano. Dunque equilibrio, organizzazione e compattezza sono questi i tratti peculiari del nuovo Delfino, che malgrado il restyling pressoché totale in sede di mercato, ha già una sua identità, un'impronta riconoscibile. La squadra pressa e corre in avanti, ha intensità, lotta e non si risparmia. Tre vittorie nelle prime tre trasferte, è record, mai accaduto negli ultimi 50 campionati, ovvero dal 1973-74. Appena due, come già ricordato, i gol incassati. Se solo si considera il trend degli ultimi dieci anni, è davvero tanta roba.